Ma sicuramente la digitalizzazione è uno strumento per fare della riqualificazione della spesa, della sua riduzione, anche un'opportunità in termini sia di qualità delle prestazioni, talvolta anche di aumento e quindi di uscire fuori da questa formula tradizionale per cui meno risorse taglia i servizi. Questo è possibile evitarlo, anzi è possibile dare prestazioni nuove e diverse e anche un'opportunità di sviluppo economico perché il settore della sanità anche in Umbria rappresenta più della metà delle risorse delle regioni e quindi possono diventare se usato appunto come un terreno di innovazione, di creazione di nuove applicazioni, di creazione di nuove tecnologie, un settore per gli investimenti e quindi anche per l'occupazione. Questo richiede un lavoro molto profondo e molto lungimirante di formazione delle persone perché abbiamo bisogno di nuovi profili professionali e quindi è una politica che deve muoversi su tante leve a cominciare da quella della realizzazione e completamento della rete a banda larga.